madre si 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 no 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 c'è stava vediamo bene no no ma hai miso l'esponenziale si forse sulla lettura non sa poco no cambia bu un fatto che si si ma pure sul no è bene perché la sta ci vena o dubbiciele forse è venuto tagliata così ma già solamente questa cosa con questo non c'è stato a sulla e non lo so e non lo so senta allora la cappottina si è solo rossa a sesso l'odio che lo avventano aspettando fammi fare questo mi muovi proprio questo mi muovi più però perché è pure il corso su tale quale 40 40 perché è venuto così l'attacca si che non la tenza mi dono una bellezza e mo aumento un poco questo qua lo metto a 55 mi muovo poco e mo faccio 60 e non so perché non mi dire perché non lo so eh sì ma sulle friaghe va dritto ma c'è un motore non lo so non lo so ma l'inclinazione è sempre solito problemi l'inclinazione eh 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 devo vedere poco cappottina no tu vuoi lancire dritto no andò lanciolo un poco basta così basta così basta così va una spada con macchillata eh non cappottina no no va proprio a sinistra beh va a mangiare per esempio non voleva visto sotto in coppia figurati qua la calaglio è troppo brutto non devi distrarre eh no no e va di lato e va troppo è voluto dritto va a sinistra hai già visto sì sì ma sono riusciti piano piano massimo dritto ma pare che ce l'ha già riuscito a fare mamma mia vero roca no c'è questa le pittà bianca sotto ancora va là però già ho fatto che a queste vanno volano una bellezza non tose cosa vola proprio la sembra proprio a sinistra e va già sempre a fare l'ho fatta là non lo faccio mai no sfido eh un regalatore secondo me non ce la fa è ma è in 40 amperi forse non ce la fa con il numero di giri però va ma forse non ce la fa con i giri secondo me sarà va sempre a fare l'ho fatta va sempre a sinistra è una cosa non è quella che è troppo rossa no è una 5 pollici andò no casomai fa coppia no no ma come sono contento mamma mia no la batteria andò secondo me la batteria a giacinno non è no 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 Sì, non lo so, non lo so. Grazie a tutti